In diretta dagli studi di Fano TV, buongiorno, la rassegna stampa occhio ai giornali del mattino, sono le 7, ben ritrovati cari telespettatori, sul canale 17 c'è l'informazione in diretta con i giornali, i giornali che abbiamo già selezionato per voi, le notizie più importanti, le pagine più importanti, al nostro giudizio ovviamente, e che troverete in versione cartacea dal vostro edicolante di fiducia. Andiamo a vedere il santo del giorno, cominciamo da qui, il nostro almanacco San Cornelio, il santo di oggi, tra i tanti che la Chiesa festeggia e celebra oggi, l'alba alle 7.32 e il tramonto alle 18.19. Diamo uno sguardo anche al tempo, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, per locali temporanei addensamenti in mattinata, transito di nuvole medio-alta nel corso del pomeriggio, le temperature stazionari o lieve aumento in particolare nei valori minimi, attenzione a venti di brezza lungo la costa e a fenomeni come foschie o locali banchi di nebbia durante la notte e al primo mattino, soprattutto sui fondovalle, così come domani lo stesso, foschie e locali banchi di nebbia, ma domani il sole sarà poi sereno durante le ore centrali, con le temperature in aumento, giovedì 22 ancora cielo sereno, attenzione ai foschie durante le ore più fredde della giornata, ancora un po' di venti nelle zone alto collinari, tempo stabile ancora anche nella giornata di venerdì, il peggioramento arriverà tra sabato e domenica. Allora il DPCM del Premier Conte sta ancora facendo discutere molto e arrabbiare in molti casi, come per esempio i presidi delle scuole che quando hanno sentito parlare di orari scaglionati, studenti delle superiori che devono entrare, possono entrare anche dalle nove, dopo le nove insomma hanno subito drizzato le orecchie e si sono subito messi a fare un giro di telefonate per capire cosa stesse succedendo, insomma si sono un po' arrabbiati lì, i presidi che secondo il resto del carino sono in rivolta contro l'ultimo decreto sugli ingressi scaglionati, il titolo a scuola dalle nove, non scherziamo, è la fotonotizia del Carlino di Pesaro di oggi, poi Movida, i sindaci chiedono aiuto, Ricci, sindaco di Pesaro, non abbiamo strumenti per chiudere vie e piazze da soli, mentre da Fano Seri dice serve la regia, giovedì in 53 sindaci andranno dal prefetto. Il virus in classe raffica di contagi dagli asili fino alle superiori, alcuni istituti sono chiusi, ma il Covid va anche tra gli sportivi, abbiamo visto da quelli noti a quelli meno noti, ma anche la Serie C ha due positivi alla Triestina, dunque il match con la Vis Pesaro adesso è a rischio. La piaga dello stalking in condominio, casi in aumento, una dozzina di situazioni segnalate all'Adusbef, oggi un convegno online per approfondire. Non solo la Diocesi di Pesaro, vittima della Valor Life, il tesoro cresce a 2 milioni, ci sono anche imprenditori, pensionati, casalinghe, tutti accusano gli intermediari della finanziaria. Il Corriere Adriatico, l'apertura è per anche qui gli orari e gli autobus, caos scuola, no dei dirigenti scolastici all'ingresso frammentato, prima serve con urgenza un summit provinciale, un incontro, lettera all'ufficio regionale, una riorganizzazione sostenibile solo se concertata con il trasporto locale. Centropagina coprifuoco alle piazze della Movida, Ricci decideremo con il prefetto, le notizie in breve sempre dalla prima pagina, il lavoro di squadra per sconfiggere la contraffazione, il lavoro della Guardia di Finanza di Pesaro, poi foce del foglia, tolto il tappo, ma le barche si incagliano lo stesso e da Fano, turismo più green, il rilancio passa per la sostenibilità. Sotto, sempre da Fano, sorpresa Marina dei Cesari, più navigatori e croceristi, i transiti quest'estate sono aumentati dell'11%, per i natanti ormeggiati, molte gite giornaliere. Poi di spalla il primo consiglio che ieri vi abbiamo trasmesso in diretta su Fano TV, sia sul canale 17 che sui social, Acquaroli tutti uniti per le marche competitive, parola d'ordine, coesione. Nella regione al plurale, cioè le marche, quasi una mission impossible, ma è proprio attorno ai concetti di ricucitura, degli strappi di riequilibrio territoriale, al di là dei campanili, che il governatore Francesco Acquaroli ha fatto ruotare il suo discorso di insegnamento. Elezione scontata poi per il Presidente dell'Assemblea, Losimano Dino Latini. Ma già c'è il primo, quello che viene definito, sgambetto e i primi mal di pancia all'interno della maggioranza della Regione. E il primo sgambetto è ai danni di Rossi, questo è il titolo sul Corriere Adriatico. E lui dice, Giacomo Rossi, La reazione, bene, vado per conto mio, il civico doveva entrare nell'ufficio di Presidenza, invece viene bruciato e passa a Ser Filippi. Allora, che cosa è successo? Cerchiamo di capire. Il primo giorno di scuola, diciamo per tutti, con Maretta per l'undicesima legislatura, il primo pomo della discordia ha riguardato la mancata elezione a consigliere segretario di Giacomo Rossi, che vedete in questa fotografia in quota Civitas. Dagli accordi romani stipulati dai partiti di centrodestra, quel ruolo spettava proprio alla lista civica, ma all'ultimo momento il voto della maggioranza è stato derottato sul leghista fanese Luca Ser Filippi, come annunciato dal compagno di partito Mauro Lucentini. Non c'è una versione ufficiale sulle ragioni di questo sgambetto, ma è noto che Rossi si è in rotta con il fondatore di Civitas, Paolo Mattei, che non lo considererebbe più rappresentante del gruppo. Una decisione che ha lasciato con la mare in bocca il consigliere Di Apecchio, che durante i lavori dell'aula è uscito per una foto fuori dalla sede, con tanto di post allegato, in cui sottolinea come la sua azione sarà nella completa indipendenza delle logiche esterne partitiche di Palazzo. Visibilmente adirato, è stato portato poi a più miti consigli da veterani dell'aula come Mirko Carloni, Carlo Ciccioli, e dallo stesso governatore Francesco Acquaroli, il quale a un certo punto gli ha detto Giacomo, vieni che parliamo. Insomma, questo dissapore interno, questo malumore, si è tradotto poi anche nel voto per l'elezione appunto dell'ufficio di presidenza. In pratica succede questo, che a un certo punto durante la votazione è spuntato un francotiratore, non si fa il nome, perché essendo un francotiratore non c'è scritto da nessuna parte, però fatti due conti, la matematica è quella, e quindi Ser Filippi porta a casa 19 preferenze, la democratica Michela Vitri 12, ma in realtà doveva essere 20 a 11. quindi Michela Vitri è stata votata appunto da qualcuno del centrodestra. Il dodicesimo che ha votato per la giornalista pesarese è dunque in quota centrodestra ed è matematico, quindi questa è un po' la situazione, quello che è successo ieri nella prima giornata, come dicevamo, del Consiglio regionale. Adesso andiamo a vedere la situazione Covid, che cosa scrivono i giornali questa mattina? Allora, ricoveri raddoppiati in sette giorni, intanto questo è il titolo sul Corriere Adriatico. Le aree Covid, ecco questa è la vera novità della quale già vi avevo anticipato qualcosa ieri, anche se non c'era scritto nulla dei giornali, perché alcune persone mi avevano confermato questa cosa, che si stava già lavorando in alcuni ospedali, per riaprire queste aree dedicate esclusivamente ai malati o comunque ai positivi. Queste aree Covid sono aperte in 12 ospedali. De Gentry sono passati da 55 a 113 in una sola settimana. Un'altra vittima del virus, abbiamo visto una persona di Ascoli Piceno, già con malattie pregresse, un paziente di 89 anni, che è morto all'ospedale Marche Nord di Pesaro. Adesso il totale di questi decessi nelle Marche dall'inizio di questa pandemia è 996. Positivo ormai un tampone su sette, la provincia di Ancona registra una media di 44 casi al giorno. C'è da registrare anche un focolaio in una comunità per immigrati ad Arcevia, 21 contagiati su 118 ospiti. Più di 2.000 marchigiani sono in isolamento domiciliare a causa dell'infezione. Tutti i dettagli nell'articolo che pubblica Lorenzo Sconocchini, che scrive Lorenzo Sconocchini sul quotidiano Corriere Adriatico. Sulla movida, sulle feste, sulla vita sociale dopo cena, c'è una presa di posizione da parte dei sindaci. Il Comune di Pesaro deciderà insieme al Prefetto, dice Matteo Ricci, il sindaco sceglie le zone, ma non ha forze sufficienti per i controlli. Annunciato per giovedì l'incontro del Comitato per l'Ordine Pubblico, in città, i luoghi più esposti sono la zona del mare, il centro storico e Baia Flaminia. Ricci che dice, ma non si ripeterà di nuovo un altro caso Ferragosto. Mentre il suo omologo di Fano, Massimo Seri, nessun provvedimento drastico se si riuscirà a rispettare le norme. Anche domenica i vigili sono intervenuti per gruppi di ragazzi ammassati. Movida e contagi, questo è il resto del Carlino, 53 sindaci dal Prefetto, al centro del Summit in programma giovedì l'interpretazione del nuovo DPCM sulla chiusura di vie e piazze a rischio assembramenti. Ha convocato tutti, il Prefetto Vittorio Lapolla, tutti i 53 sindaci della provincia, la riunione sarà in videoconferenza, vanno fatte delle scelte per contenere il coronavirus, con decisioni che devono essere rapide per evitare i focolai del contagio. Al centro della discussione appunto l'interpretazione del decreto di Conte. Massimo Seri che dice scendo in strada con i giovani, blitz del sindaco Massimo Seri nella Movida Fanese, si parte dal prossimo fine settimana e questo è il primo effetto su Fano del nuovo DPCM nella parte che riguarda il divieto di assembramenti nelle vie e nelle piazze e l'eventuale coprifuoco dopo le 21. Non voglio fare il sindaco sceriffo alla De Luca, afferma il primo cittadino, ma voglio verificare di persona come si comportano i nostri giovani. Mia intenzione, dice ancora Massimo Seri, andare a parlare con loro che sono i protagonisti della Movida e lo farò da questo fine settimana in quei luoghi dove si creano la maggior parte delle concentrazioni. Mentre Maurizio Gambini da Urbino dice ma questi poteri li avevamo già, ci sono casi diversi da città in città, tra l'altro Maurizio Gambini a proposito di coprifuoco insomma è sempre stato quello che è andato più avanti degli altri e ha fatto sempre scatti in avanti anche il giovedì sera che a Urbino notoriamente si anima di giovani universitari che passano la serata in compagnia già in quel giovedì era intervenuto il sindaco di Urbino mentre non possiamo intervenire da soli come abbiamo visto è quello che dice Matteo Ricci da Pesaro. Andiamo sull'altra pagina Senigallia, Movida, controlli pronti ai controlli no assembramenti il sindaco Olivetti non voglio essere uno sceriffo vedete anche lui sulla stessa falsariga degli altri dei colleghi solo se sarò costretto segnalerò dove intervenire ognuno deve fare il massimo per evitare che il virus si propaghi. è morto Claudio Cavallari invece sempre da Senigallia all'età di 86 anni decano dei giornalisti personaggio eccentrico molto legato alla sua città che ha saputo sperimentare tutti i generi dell'informazione dalla tv, la radio, la carta stampata il web Cavallari è morto nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale dopo una lunga malattia investito sulle strisce pedonali restiamo sulla pagina di Senigallia grave in ospedale un 46enne l'episodio in via Stradone Misa dove nel 2016 perse la vita il pediatra Guido Perissi dopo un mese di ricovero e lui adesso è appunto in prognosi riservata mentre domani primo consiglio comunale alle 15 della giunta di Massimo Olivetti torniamo a parlare di Covid virus venuto da Amsterdam questo è il titolo sul Corriere Adriatico di oggi timori per un professionista fa paura il virus venuto dai Paesi Bassi scrive Lorenzo Furlani ha gravemente compromesso la capacità respiratoria di un professionista fanese poco più che cinquantenne ricoverato da qualche giorno nella rianimazione del San Salvatore per una positività al coronavirus con un'alta carica virale lui il caso indice nei reparti Covid dell'ospedale Marche Nord che si preparano ad affrontare una temuta nuova onda d'urto della pandemia attrezzandosi con nuovi posti letto di terapia intensiva che seppur autorizzata dal Governo nazionale a fine maggio ancora devono essere in gran parte allestiti ma si sta comunque si stanno allestendo in queste ore intanto intanto dicevamo di questa persona che forse è l'unica più grave in terapia intensiva in questi giorni è l'unica che sta preoccupando un po' i medici tra quelli che sono in terapia intensiva di questo appunto 53enne e deve fare adesso ancora l'ultima l'ultima come dire dose ma non è questa la parola giusta di iper di iperimmune di sangue iperimmune l'infusione quindi insomma si spera di poter come spesso accade dopo la terza di poter vedere il miracolo come si dice ecco quindi speriamo che questo vada a buon fine intanto sull'ingresso posticipato sette istituti chiedono un summit provinciale Rossini presidente dei presidi marchigiani ha inviato una lettera all'ufficio regionale scolastico la riorganizzazione sostenibile solo se si è concertata con chi gestisce il trasporto locale affano invece per ora non cambiamo e ascoltiamo dunque le autorità una follia all'ingresso a scuola dopo le nove la rivolta dei presidi studenti e famiglie il ministero in serata ha corretto il tiro solo in situazioni di assoluta urgenza ma fin dal mattino la protesta in città ha dilagato nel nostro pullman questo è il vero problema i viaggi che fanno gli studenti già dal mattino presto per raggiungere gli istituti avanti e indietro quindi anche per il rientro a casa ma comunque il problema sta appunto sui mezzi spesso insomma sono tutti appiccicati nel nostro pullman dice alcuni allievi dicono ci sono solo ragazzi un provvedimento senza senso senza senso se volessero alleggerire i mezzi davvero allora dovrebbero dividere i carichi istituto per istituto quindi ci sono tante prese di posizione dai licei alle scuole in infanzia ci sono anche una serie di contagio una raffica di contagio una studentessa positiva al Marconi istituti chiusi a pian di Meleto Lunano e Frontino a Sasso Corvara uditore invece 17 casi ma tutto è un po' sotto controllo la ragazza ha fatto il tampone in Romagna quindi non risulta da noi ora torno a ripetere quello che si diceva ieri ma la faccio molto breve per non stancarvi questo continuo andare alla ricerca del positivo in ogni via in ogni angolo in ogni istituto in ogni posto abitabile dall'essere umano è un po' come dire un po' fuori di testa lasciatemelo dire ripeto i giornali stranieri tutta questa cosa ma neanche per sogno siamo noi italiane che non so per quale ragione per quale isterismo collettivo della categoria sta continuando a pubblicare a scrivere a dedicare paginate ore di trasmissioni a positivi positivo non è malato il positivo è uno che ha il virus appunto come c'è un'influenza si deve curare se c'è i sintomi altrimenti deve stare dieci giorni a casa eppure lo andiamo a cercare studentessa positiva al Marconi ma chiaro ma ci saranno da qui all'eternità ancora studenti positivi finché ci sarà il virus quindi continuiamo a scrivere e a dedicare tutto questo tempo compreso me e compreso la rassegna stampa però questa è la rassegna per cui leggiamo quello che scrivono gli altri ora detto questo forse è il caso di frenare perché stiamo andando senza freni non so dove e poi non so quanto effettivamente poi a voi telespettatori interessi sapere tutti questi particolari però fatecelo magari sapere non so se è il caso di cambiare rotta o continuare così io continuo a leggervi il bollettino tutti i giorni ma non so poi se vale la pena oppure no fatecelo sapere perché anche noi siamo un po' disorientati non sappiamo bene come regolarci anche qui il virus sui banchi di scuola prof contagiata al Mamiani classe in quarantena all'Olivieri e un'intera sezione alla materna Pollicino ora questa è la pagina del Corriere Adriatico poi allarme a Sasso Corvaro 18 positivi in isolamento 8 bimbi asintomatici ecco e questa è un'altra di queste ecco quindi questa è un po' questa è un po' la situazione mentre si dà spazio invece a chi ha timore di dover rimettere tutto in discussione richiudere di nuovo come le palestre per esempio che hanno aperto già per ultime in ritardo hanno già sacrificato tanti spazi tanti introiti molti sono in difficoltà le palestre sfinite dal nuovo ultimatum chi sgarra paghi ma non chiudeteci tutti sapete che hanno hanno questa spada di damocle per una settimana ancora i gestori delle palestre il governo non si sa perché vuol vedere cosa non si sa vuol vedere in una settimana quello che succede poi deciderà se chiuderli chiuderle palestre oppure no stiamo applicando tutti i protocolli venite da noi non è un gioco ci sentiamo in nomination è giusto è vero verissimo questa sera ci sarà una riunione bella questa definizione bella ridiamo perché ovviamente è una risata anche la nostra un po' isterica però ci sentiamo in nomination è perfetta come definizione in piscina già affondano le presenze perché poi c'è anche la paura non dimentichiamocelo più della metà ieri hanno disdetto sport village il presidente Sebastianelli è allibito qui c'è il cloro che disinfetta vedete poi ognuno ha la sua ricetta ognuno ha le sue cose quindi siamo nel caos e ci stiamo entrando alla grande con tutti i due i piedi sanifichiamo oggi ora sanifichiamo scusate ogni ora diamo lo straccio sei volte al giorno sei spogliatoi insomma l'ambiente è protetto quindi questa è un po' la situazione nelle piscine sia il tampone rapido invece ecco questa invece potrebbe essere una cosa intelligente risposta in 12 minuti delibera e accordo con le farmacie in caso di positività andrà svolto ovviamente quello molecolare quindi il tampone con il percorso ufficiale dell'Aso però già se ci fosse la possibilità di avere queste risposte rapide in 12 minuti quindi il tampone rapido e soprattutto poterlo fare anche in maniera molto più semplice anche in farmacia così come era stato previsto insomma sarebbe una cosa buona e giusta Acquaroli dice il virus è sotto controllo ma i contagi sono molti andiamo sulle pagine di Fano del resto del Carlino ferma al binario questa è una storia che mette i brividi ferma al binario un treno le risucchia la valigia l'incubo l'incubo di chi prende e viaggia sulle rotaie disavventura in stazione ad una avvocatessa il pesante bagaglio completamente maciullato eppure ero lontana racconta lei e poi la domanda che davvero fa venire la pelle d'oca è se lì c'era un bambino che più o meno pesa come una valigia o come il bagaglio che è stato completamente maciullato di questa avvocatessa è certo i convogli sfrecciati a gran velocità hanno provocato un enorme spostamento d'aria dunque questo è il problema che questi treni sfrecciano anche nelle stazioni piccole come quella di Fano ad alta velocità qui nella fotografia sotto della pagina di Fano del Carlino c'è la comandante della polizia locale di Fano a Narita Montagna al tolà dei vigili non solo Movida al via i controlli su tutte le attività la comandante però assicura nell'ultimo fine settimana nessuna multa e tutti sono stati molto molto responsabili l'Asur invece trova batteri nelle cozze al supermercato partono il sequestro e la denuncia al distributore ma il giudice lo assolve i protocolli sono stati osservati c'è una notizia invece a pagina 15 che riguarda un'azienda fanese un'azienda fanese che ha 240 lavoratori si chiama Arbo e perché questa mattina è sul giornale perché Arbo intanto non conosce crisi e questo ci fa piacere e ai suoi dipendenti che sono 240 il Consiglio d'amministrazione ha deciso di regalare di dare 500 euro come diciamo come premio allora questa è una società che distribuisce distribuisce pezzi di ricambio per per gli idraulici eccetera insomma ha pensate su un totale nazionale di circa 70 mila idraulici oltre 23 mila dice l'amministratore delegato Daniele Franco sono nostri clienti e comunque tutti quanti conoscono la nostra realtà aziendale è una azienda che si trova che si trova a Fano come dicevo in Italia hanno 44 punti vendita e su un totale di 240 dipendenti un centinaio circa sono nella sede di Fano sono tutti della zona perché si va da Fano Senigallia fino a Pesaro la Arbo non produce ma distribuisce pezzi di ricambio per caldaie ed è leader nella distribuzione dei ricambi accessori per impianti di riscaldamento ora diciamo che questa società che è stata fondata dalla famiglia fanese Bonazzelli che ha poi ceduto tutte le quote nel 2018 ha chiuso il bilancio 2019 il 30 giugno con un fatturato di 72 milioni di euro e pensiamo di arrivare dice al 31 di giugno del prossimo anno con un fatturato che arriverà a 77 milioni di euro quindi un plauso naturalmente a tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando per questa azienda anche durante il lockdown tutti i dipendenti ai quali appunto andranno 500 euro non in busta paga scrive Gennari perché poi capirai in busta paga se riprende le tasse se riprendono le tasse quindi però è da capire come andranno questi 500 euro che per 240 fa 120 mila euro ecco che andranno che l'azienda darà appunto a questi dipendenti Fano Corriere Adriatico la sostenibilità ambientale dà un'identità per il turismo legambiente sugli stati generali occorre migliorare la vivibilità della città e poi vertenza politica sulla strada per l'ospedale unico senatore del Movimento 5 Stelle critica gli interquartieri per le esigenze del futuro presidio di Muraglia il Covid-19 non spaventa i navigatori e i croceristi i transiti a Marina dei Cesari quest'estate sono aumentati dell'11% la barca preserva dai contagi e beh certo in mezzo al mare il Covid-19 non va adottati tutti i cani di Melampo sempre da Fano assegno la campagna a distanza soddisfatti alla struttura di Tre Ponti per la risposta avuta per i 96 ospiti una decina di animali ha trovato anche una famiglia presso la quale trasferirsi per il resto tutte adozioni a distanza spariti 2 milioni di euro nella rete della Valor Life sono i risparmi di decine di persone oltre alla diocesi di Pesaro che hanno investito nella società dell'Ikestein pensando di sottoscrivere delle polizze vita in tribunale a Rimini c'è stata una nota una transazione al 10% a Pesaro si è avuta la prima condanna insomma continuano continuano in qualche modo a venire fuori persone che dicono di essere state truffate o comunque che hanno perso tutto quello che avevano investito e poi c'è una nota della diocesi di Pesaro che dice era un investimento sicuro noi traditi dall'intermediario tra l'altro va detto che Monsignor Coccia ha fatto il suo ingresso in diocesi il 31 di maggio del 2004 e si è trovato ad approvare un'operazione iniziata nel 2003 e presentata dagli amministratori del tempo come sicuramente affidabile e mi pare che prima di Coccia c'era Bagnasco quindi è stato fatto quando c'era Bagnasco appunto alla guida della diocesi di Pesaro alla foce del foglia si è tolto il tappo però resta l'effetto camminata sulle acque come vedete dalla fotografia ancora problemi per le barche il comune dice lavori eseguiti ma anche i diportisti devono contribuire lavorare nei campi fa stare molto bene verissimo scelte di vita la signora Marica Martinelli siamo ad Apecchio 41 anni dedica tutta la giornata ad animali e all'azienda ma senza tralasciare la famiglia questa è una storia che racconta il carino questa mattina a Madeo Pisciolini e lei dice fare un nuovo capanno è costato tantissimo c'è troppa burocrazia Valmetauro centralino più efficiente ritiro dei rifiuti più lento la giustificazione di Asit riferita dal sindaco Bonci per la raccolta degli ingombranti no al PD commissariato serve un rinnovamento dalla pagina di Urbino poi lo sport fanno non ti deprimere e pensa a Cesena Triestina due positivi gara con la Viss in forse e VL e tifosi Acquaroli scende in campo il presidente ha chiamato Costa sulla questione capienza alla Vitrifigo Arena e dice il presidente farò di tutto per garantirvi 1500 spettatori e io farò di tutto al regista Sora per essere più bravo le prossime volte arrivare un po' non proprio all'ultimo perché sono le 7.30 adesso c'è la messa in diretta da Loreto grazie per averci seguito appuntamento questa sera con il telegiornale Occhio alla Notizia Grazie a tutti